Rischia seriamente il default il Libero Consorzio Comunale di Ragusa se entro settembre non arriveranno le risorse previste. A rivelare lo stato comatoso delle bilanze dell'ex provincia di Ragusa è il commissario Salvatore Piazza, nominato il 30 gennaio scorso e riconfermato il 5 luglio fino al 30 settembre. Allo stato attuale, ha detto il commissario Piazza, se non arrivano fondi e trasferimenti a fine agosto, al massimo entro i primi settembre, non saremo più in grado di gestire gli obblighi e le competenze della provincia. Quindi dovremmo dire basta alla manutenzione delle strade, delle scuole e a tutti i servizi che fino ad oggi, tra mille difficoltà, abbiamo cercato di garantire. La dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente locale Ibleo sulla carta è iniziata nel novembre del 2016. L'operazione comprende la Caserma dei Carabinieri, la Prefettura, Palazzo Floridi a Modica, Palazzo Pandolfi a Pozzallo, solo per citarne alcuni esempi. Un atto deliberato per obbligo di legge per pareggiare il bilancio in qualche modo lo definisce Piazza, che però non nasconde la sua preoccupazione per le sorti di quello che era uno degli enti più virtuosi in Italia e che adesso, a causa del prelievo forzoso, rischia il fallimento a causa del mancato introito di circa 11 milioni di euro.